Non può restare inascoltato il grido d'allarme lanciato dal direttore generale dell'ASP di Crotone, l'avvocato Francesco Masciari. Visto l'impennata di casi nella provincia di Crotone senza fare allarmismi, ma nell'ottica di prevenire drammi futuri, è evidente che i posti letto per pazienti covid-40 attivati dall'azienda sanitaria potrebbero non essere più in numero sufficiente. Così, in una nota stampa, Flora Sculco, consigliera regionale, che punta l'indice sulla scarsa dotazione di posti letto covid presso l'ospedale Spock di Crotone, già sato a causa di un picco di contagi dell'ultimo orno. Già 38 dei 40 posti letto, dice l'Asculco, così come dichiarato da Masciari, risultano occupati. Il rischio di emergenza è ancora più reale, in quanto il San Giovanni di Dio è l'unico ospedale presente nella provincia di Crotone. Dopo una prima interlocuzione con il direttore generale, sottolinea la consigliera regionale, mi sono lecata immediatamente in cittadella per affrontare la problematica direttamente con il presidente facente funzioni, Nino Spirli. Ho trovato nel presidente piena disponibilità e di questo voglio ringraziarlo pubblicamente per cercare insieme una risoluzione del problema, che arriva dal Marrelli Hospital, che ha prontamente comunicato la propria volontà a mettere a disposizione un intero piano della propria struttura in cui poter utilizzare 24 posti letto per pazienti il Covid. Il presidente Spirli, ritenendo questa un'emergenza, si è immediatamente attivato, interloquendo anche con il ministro Speranza, per sollecitare la soluzione Marrelli Hospital. Ora dipenderà tutto dal nuovo commissario della Sanità calabrese, il professor Gaudio. Sarà premura della sottoscritta del presidente facente funzioni della regione, conclude Florasculco, far sì che il primo impegno nell'agenda del nuovo commissario sia proprio l'attivazione dei 24 posti letto Covid presso il Marrelli Hospital di Crotone.